E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. In questo ventitresimo livello di Crash Bandicoot 3 vi insegnerò come superare il percorso di morte per trovare una gemma speciale, capite? Dobbiamo trovare una gemma colorata. Ora, ascoltatemi, se voi avete già recuperato il cristallo e vinto la gemma bianca rompendo 75 casse, ora dobbiamo cercare la gemma verde. In questo ventitresimo livello, facendo il percorso di morte, si va a trovare la gemma verde. Se non avete notato le casse metalliche hanno una lettera C con il checkpoint. Non dimenticate di usare il bazooka che voi avete vinto. Riordatevi che il bazooka sparafrutta è il vostro potere. Ce l'avete sempre a disposizione per sparare. Potete colpire gli stolti che si affacciano alla finestra e lanciano le molotov. Questi stolti che si affacciano alla finestra e tirano le molotov c'erano anche nel tredicesimo livello, se non sbaglio. Fate anche attenzione a quell'uomo che lancia le scimitarre. Abbiamo bello già trovato la gemma verde, ragazzi. E il video si può concludere. Io vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale come sempre. Un bacione e un ciao da Gabriel Osta. Una rivederci e grazie per avermi seguito. Ciao a tutti quanti e ciao a tutti quanti. Scusate se ho fatto un doppio saluto. Ciao a tutti.